Gentili telespettatori, buona giornata. Le vicende europee non interessano a molti, però questa notizia è degna di nota. Il manifesto dei sovranisti europei firmato da Salvini, Meloni, Le Pen e Orban. Una quindicina di sigle contro l'ideologia tecnocratica di Bruxelles. Viene accantonata l'uscita dall'euro e dalla Unione Europea. I firmatari puntano alla nascita di un gruppo unico al Parlamento europeo. Così la Le Pen annuncia la nascita dell'Unione dei Partiti Patrioti Europei, con una dichiarazione comune sull'avvenire dell'Unione Europea firmata da lei stessa, gli italiani Giorgia Meloni e Matteo Salvini, l'ungherese Viktor Orban, il polacco e leader spagnolo Santiago Abascal ed altre dieci forze politiche europee. Non si parla più di uscire dall'Europa ma di dare un altro indirizzo opposto al percorso federalista che la allontana inesorabilmente dai popoli che sono il cuore vibrande della nostra civiltà, scrive Marine Le Pen. La dichiarazione comune è firmata da partiti e responsabili politici che nei paesi rispettivi sono forze dominanti o in ascesa e presto maggioritarie grazie alla volontà popolare, sostiene la leader, che peraltro domenica scorsa ha patito una dura sconfitta alle elezioni regionali in Francia, non riuscendo a conquistare alcuna presidenza di regione, neanche in Costa Azzurra dove il suo candidato era dato per favorito. I firmatari vogliono difendere l'idea di un'Italia, di un'Europa rispettosa dei popoli e delle nazioni libere, giudicando inaccettabile che i popoli siano sottomessi all'ideologia burocratica e tecnocratica di Bruxelles che impone norme in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Si tratta di temi da sempre cari alle forze politiche sovraniste ma viene accantonata la retorica dell'uscita dall'euro e dall'Europa. L'obiettivo non è più distruggere l'Unione Europea ma riformarla, pesando di più sul dibattito politico e secondo Marine Le Pen l'accordo di oggi è il primo passo verso la costituzione di una grande alleanza al Parlamento Europeo. L'avversario è Emmanuel Macron, il principale rappresentante in fraccia dei mondialisti e degli europeisti che lanciano la conferenza sul futuro dell'Europa, vogliono accrescere il potere delle istituzioni europee. Il posizionamento politico di Marine Le Pen è chiaro e tutto sommato coerente in Francia e in Europa, rivale di Macron nella corsa dell'Eliseo nella primavera del 2022 e avversaria patriota del presidente europeista anche a livello continentale. Come dicevamo la Lega di Matteo Salvini? In Italia parte del governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi, salvatore possiamo dire dell'euro e oggi più stretto alleato di Macron e al tempo stesso in Europa parte di una nuova rafforzata alleanza sovranista assieme a Giorgia Meloni che invece è fuori dal governo e che ha per maggiori avversari gli stessi Macron e Draghi. Quindi c'è questa differenza. La nascita dell'alleanza dei patrioti punta a formare un gruppo parlamentare sovranista che potrebbe contare all'incirca su 115 deputati a Strasburgo diventando la terza formazione dopo i popolari e i social democratici. La riorganizzazione del campo sovranista è stata permessa dall'uscita dell'ungherese Orban dal Partito Popolare Europeo. Fino ad allora Orban e il suo partito erano legati ai repubblicani e al presidente francese e rifiutavano l'alleanza con Marine Le Pen. Rotti gli indugi e abbandonato il PPE, Orban può adesso perseguire apertamente l'unione con i lepenisti in Francia e Meloni e Salvini in Italia. E quest'ultimo adesso a trovarsi in una situazione politicamente delicata visto che anche se il suo più importante ministro del governo Draghi, Giorgetti, sembra attento alle ragioni dell'imprenditoria settentrionale più interessata a tutelare a stringere il legame con l'Europa. Vedremo quello che succederà perché si sottolinea, molti sottolineano il passato no euro di alcuni leader, la Nato eccetera eccetera. Il Financial Times si chiede se Salvini si è trasformato visto che prima era per il no euro, simpatie per Putin, Trump, il suo riallenamento attuale sull'Europa di Draghi, la Nato e il presidente americano Biden. Quindi il Financial Times si chiede se Salvini si è trasformato? Il mondo è cambiato, l'Europa è cambiata, gli Stati Uniti sono cambiati, le dinamiche economiche sono cambiate. Abbiamo certi valori e quelli rimangono, risponde Salvini, che poco dopo aggiunge la mia idea è un'Europa del popolo, non un super Stato ma una riunione delle diversità e delle comunità. L'articolo si conclude così, mi chiedo quale versione di Salvini io abbia incontrato, scrive il giornalista del Financial Times. Vedremo quello che succederà. Intanto sui licenziamenti, un'altra notizia che è rimasta lì per qualche tempo, sui licenziamenti c'è stato un accordo governo-sindacati, usare il più possibile gli ammortizzatori sociali. Quindi dopo una riunione fiume con i segretari generali di CGL, Cisle, Will, Draghi ha accettato di rafforzare i limiti allo sblocco dei licenziamenti già decisi lunedì nella riunione della cabina di regia a Palazzo Chigi. Sindacati soddisfatti in particolare, oltre alla proroga del divieto di licenziare fino al 31 di ottobre, per il tessile e i settori collegati, abbigliamento e calzature, per tutte le aziende che hanno tavoli di crisi aziendali aperti al Ministero dello Sviluppo, nelle regioni e nelle prefetture. Ha riferito il segretario della CISLE, Luigi Sbarra. Sono previste 13 settimane in più di cassa integrazione straordinaria gratuita. Infine è stato raggiunto un avviso comune, cioè un'intesa tra governo, sindacati e associazioni imprenditoriali, che impegna le aziende a utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione prima di arrivare ai licenziamenti. E così poi c'è il decreto, la moratoria, il pressing sindacale. Ma questo ve lo racconterò in un altro video, quello sull'accordo sui licenziamenti. Intanto io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci troviamo anche nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete, mentre nella community di questo ci sono tanti sondaggi ai quali poter partecipare e commentare. Mentre poi siamo anche in Facebook nella pagina Teleitalia, dove trovate anche lì condivisi tutti i video dopo qualche ora che sono presenti su YouTube. Grazie a tutti, se volete tra una ventina di minuti ci sarà un altro video disponibile qui sul canale. Arrivederci e grazie.